Per me non c'è nessuna vendetta, non c'è nessun odio su Battisti. Io voglio solo che lui scontri, quello che non ha mai scontato. Io personalmente mi sono perso tutta la mia infanzia, la mia giovinezza, l'essere padre, i matrimoni di mie sorelle. Il nostro padre non l'abbiamo mai visto. E' questo che mi tortura. Negli studi di Focus l'appello di Adriano Sabadina ai rappresentanti dello Stato italiano perché non rinuncino a perseguire l'estradizione per Cesare Battisti, il terrorista che nel 1979 uccise suo padre Lino, macellaio a Santa Maria di Sala. La partita politica con il Brasile procede a rilento. A noi familiari delle vittime, denuncia Sabadin, non vengono date informazioni certe da anni. Un giorno ti dicono una cosa, l'altro giorno te ne dicono un'altra. A questo punto anche noi ci facciamo delle domande, ma a chi dobbiamo credere? Ma cosa succederà sul nostro caso? Cosa succederà domani? Veramente io perdo la fiducia tantissime e tantissime volte. Non so chi credere. Più volte mi è stata promessa giustizia, racconta il figlio del macellaio, ma alle parole non sono mai seguiti i fatti. L'ultimo a venirmi a trovare è stato il ministro Angelino Alfano alcuni anni fa. Da allora è calato il silenzio. Ci devono dare delle risposte. Siamo proprio messi in disparti in questo momento. Per carità, loro faranno il loro compito. Non voglio assolutamente polemizzare, però noi non siamo sereni.